social cooking presenta un piatto veramente particolare dedicato alla primavera gnocchetti verdi shadi asbun è colui che ci farà quelli bianchi però perché quelli veri li abbiamo già pronti infatti in realtà diciamo che giocando con la pasta con la farina con le uova che sono la base dei primi diciamo italiani in genere andremo a fare questa particolare primo dedicato appunto agli gnocchetti perché giustamente ci sono la farina quanti quanti ghietti di farina allora 200 grammi di farina sì due uova sì un pizzico di sale sì 200 ml di latte sì e un pochino di olio allora detto questo vedete che già la farina le uova sono la base della nostra pasta che poi crea le pappardelle le tagliatelle quello che insomma desideriamo fare no ma anche le paste ripiene mentre invece questo è sono degli gnocchetti ora imprendo lo strumento esatto perché per farli appunto dovremmo utilizzare lo porto qua questo particolare strumento che guardate allora questo strumento sembra una grattuccia gigante no vedete una grattuccia gigante con annesso proprio si incastra questo quadrato che poi scorrendo fa sì che si formino questi gnocchi perché noi questa bella grattuccia guardate c'ho già l'acqua qui che bolle l'ho salata con il mio sale grosso si incastra così si appoggia sopra ora io metto l'impasto esatto alza guarda susana alza intanto l'acqua che deve essere bollente stava bollendo l'avevamo abbassata apposta quindi la rialziamo allora questo poi è uno dei piatti che a social cookie nelle varie lezioni si possono fare sì perché è semplicissimo guarda come vedi con pochissima attrezzatura noi lo stiamo facendo completamente in diretta guardate noi abbiamo di solito quando siamo in questi spaccati 10 11 massimo 12 minuti perché vogliamo far capire che cucinare a volte sembra che qualcuno faccia l'ufficio complicazione quasi semplice invece guarda questa è una ricetta molto semplice lo vedi già in pochi secondi noi gli abbiamo creato questa pastella morbida fluida che poi se uno mette l'aggiunta di quanto retti di spinaci ma in realtà io vado un po' a occhio perché cerco di mettere gli spinaci sufficienti per rendere il colore ovviamente cosa vado a togliere vado a togliere un pochino di lipidi quindi in questo caso un po di latte queste sono tutte particolari cioè particolari che durante appunto le lezioni del social cooking mettendo le mani in pasta si riesce anche a capire quando un impasto è pronto esatto perché vedete già qui sono ci sono le foto bellissimo così lo vedono ognuno ogni postazione che ogni allievo ogni partecipante ogni partecipante c'è anche il tuo collega gabellini questo è stato un onore un congnuno nella sua postazione con i vari ingredienti e da solo fa quello che stavano facendo il sugo mi sembra il sugo finto quindi ritorno a tradizione quindi però piatti semplici che non sono altro che la base della nostra cucina perché chi non sa guarda anche lì l'assessore guarda come in poco tempo hanno imparato a saltare anche saltano la pasta e qui il momento finale quando si va ad assaggiare tutti perché quello che avete fatto lo mangiate il figlio buono cattivo perlomeno con qualche difetto perché si riesce ad assaggiare anche i piatti degli altri e si riesce a percepire anche come una pasta fatta da una persona un impasto possa essere diverso dall'altro perché dipende molto da anche dal calore delle mani e però è bello perché poi nel finale questo è un altro gruppo è bello che ci sono di tutte le l'età di tutti i lavori c'è compagni marito e moglie poi che chissà qualcuno si fa la fidanzata la cosa bella guarda anche ora guardando guardando le foto mi vengano i brividi è proprio guarda una cosa bella perché alla fine la gente si diverte a fare quello che sta facendo guarda ora a distanza di tempo mi vengono più brividi ma la cosa più per cui fanno la spesa perché gli ingredienti la cosa bella è anche questa che noi impariamo un sacco anche da loro perché a volte chi fa come tu giustamente uno chef in cucina impari anche a semplificare le tue guardate è venuto un impasto vedi come vedi liscio omogeneo però fatto in pochi secondi e leggermente colloso sembra l'impasto di un dolce guarda ti dirò una cosa se vi viene un po più chiaro a casa se vi viene un po più chiaro non è un problema perché io sto ho usato delle uova speciali che sono venute di questo colore perché ci sono le uova bianche e le uova gialle guarda aiutandoti con questo ramaiolo vai a inserirlo nella nostra macchinetta e poi inizia a farlo andare su e giù nel frattempo ve lo confesso è la prima volta che li faccio infatti io provo subito su di te così se funziona lo facciamo basta così facciamolo un po in su e in giù l'unica cosa che mi ha raccomandato sciadi che deve essere un movimento molto lento in modo da farli venire della dimensione ora questo impasto avrebbe bisogno di riposare ancora un po come tutti gli impasti qua perché vedrai che ti sono venuti un po piccolini allora mentre stai facendo mentre stai facendo gli gnocchetti che verranno su molto velocemente io farò andare un pochino di olio nella padella perché dobbiamo fare il sugo di accompagnamento ecco qua ci vado a mettere un po di scalogno ovviamente prima ho scaldato già la padella eh quindi il nostro olio ecco diciamo uno dei trucchi che è piaciuto di più è che tutti quando mettono l'olio nella padella ce lo mettono direttamente quando mettono la padella sul fuoco invece in quel modo mentre invece uno dei trucchi per far venire meglio le qualsiasi cosa che facciamo è di mettere la padella scaldarla dopodiché mettere l'olio e in questo caso apporre o l'aglio il soffritto in questo caso ci abbiamo messo un po di scalogno scalogno perdonami non l'avevo sentito e guarda contemporaneamente vado a tagliare il mio speck allora sì scusate tolgo la bocca io ho quasi fatto è velocissima sta cosa è anche il sugo lo vedi già sì perché durante insomma il social comune le lezioni cioè non dobbiamo fare cose difficilissime guarda le basi e poi guarda cosa andiamo a utilizzare andiamo a utilizzare un prodotto stagionale perché quello che noi puntiamo molto anche e di iniziare a utilizzare i prodotti stagionali nelle stagioni giuste anche perché è molto importante andare a fare shopping quando si rientra la sera dal lavoro dentro al nostro frigorifero senza necessariamente tutte quelle volte che vogliamo fare un qualcosa è comprare dobbiamo imparare anche visto anche il periodo ma voglio dire le cose sono molto care saper diciamo creare un qualcosa nel nostro quotidiano nella nostra scena o pranzo con quello che abbiamo in casa allora guarda vengo da te per rubarti questi gnocchetti guarda bellini sono bravissima non so se si riesce a vederli eccole qua sono venuti degli gnocchetti molto carini lo fatti io l'hai fatti te io ho solamente girato inizialmente l'hai fatta anche troppi guarda io ho usato tutto l'impasto che hai avuto poi ritorniamo qua guarda e si saltano questo lo vedete anche imparare a saltare in una padella fa la differenza per una pasta perché con questo saltare che cosa succede? praticamente amalgamo tutti gli amidi presenti e infatti guarda mi aiuterò ancora un po' perché con l'acqua di cottura della pasta aspetta che prendo la bowl la tolgo e la metto qua con l'acqua di cottura della pasta riesco a creare proprio la cremina necessaria vedi con questo movimento perché a volte si dice perché non mi viene la cremina come quella che al ristorante trovo perché non si ha l'accortezza durante quando si fanno sposare con il sugo di mettere l'acqua di cottura perché lì ci sono insomma gli amidi no? esatto e quindi gli amidi fanno la differenza perché creano voglia assaggiarli eh prova guarda te le lascio anche un po' qui guarda che bel colore anche ti dà proprio questa sensazione dei gialli dei rossi ti dà proprio la sensazione di primavera ora mi dovete dire se questo non è un piatto che più che dietetico anche eh? piatto unico volendo ora guarda andremo ancora sul più dietetico volendo perché ti faccio vedere senza l'utilizzo dello speck senza l'utilizzo di altri grassi cosa posso fare io? guardami eh allora questo lo completiamo così così richiamiamo tutto quello che ho fatto perché insomma anche la presentazione di un piatto impararla è importante eh perché prima cosa che mangia è la vista eh poi guarda approfitto approfitto anche per far vedere quest'altro guarda eh questo qui sarebbe l'impasto verde che ha riposato quindi leggermente più colloso quindi con quello bianco abbiamo fatto quello però vi volevo far vedere anche contemporaneamente comunque sono venuti allo stesso se una fretta ce li buttano stessi guarda considera che questi qui io li ho preparati ieri sera e li ho messi in frigorifero quindi non è detto che avendo poco tempo non si possa creare comunque una bella ricetta perché si preparano il giorno prima si mettano in frigorifero con un pochino di olio eh così non si appiccicano non si attaccano ma in realtà non necessitano nemmeno di troppo olio perché nell'impasto c'è già un po' di olio e va bene quindi non si appiccicano si può fare anche due giorni prima due giorni durano in frigorifero guarda e non hanno bisogno di essere rimessi in acqua quindi te direttamente puoi andare dal dal vassoino dal frigorifero? non importa non importa vedi lo saltiamo anche questo lo cerchiamo di fare la crema scaldandolo e guarda che bello anche in questo caso i colori perché io devo dire che la nostra italianità vai vai vado? sì sì la esprimiamo tutto quando riusciamo a mettere in tavola un piatto bianco, rosso e verde infatti oh quindi con cosa lo completeremo vedi? quindi ho uno gnocchietto tiepido quello lì era bello bollente in questo caso noi facciamo qui uno bello tiepido però guarda com'è che bei colori quando lo andiamo a impiattare sopra proprio al momento proprio hai visto i pomodorini lo scaldate un secondo sì vai ci vado a mettere una spolverata o di pecorino o di parmigiano guarda là guardate e questo guarda in quanto si è fatto in 10 minuti uno potrebbe preparare da mangiare ecco qua ma con delle cose sfiziose che lo sfizioso non vuol dire per forza complicato e spese eccessive e poi considera, esatto, perché questa è una cosa molto semplice di solito è una ricetta tipica questa tirolese tirolese, sì diciamolo che però insomma e utilizzano il burro? io cosa vado a fare? per completare il piatto al posto di aver utilizzato grassi che diciamo in Toscana noi le usiamo pochissimo vado a metterci del buon olio extravergine d'oliva cioè noi usiamo l'olio che è un grasso vegetale mentre invece il burro è un grasso animale però giustamente ogni luogo, ogni regione ha le sue tradizioni però visto che parliamo di primavera, a parte la tradizione stessa, sicuramente un buon olio extravergine d'oliva saltato e messo al momento ti dà la differenza per il grasso avete inquadrati? qua si assaggiano vai perché ribadisco per quanto riguarda il social cooking ora ci sa che ci sa? no io mangio con questo come nel medioevo con le cucchiaia di legno quello che giustamente nelle lezioni si fa è quello che poi nel finale viene mangiato ed è una soddisfazione poter consumare tutti insieme perché poi la convivialità è quello che è il divertimento la cucina deve essere convivialità, divertimento imparando e fare dei piatti belli così e fare dei piatti belli, buoni e sani perché sappiamo noi cosa ci abbiamo messo dentro io stagio grazie grazie grazie